Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Da qualche tempo sono d'allarme di un'imminente grande crisi economica che potrebbe tremare a livelli globali nel 2020. Contrariamente a quanto riportato da alcuni analisti ed esperti, ci sono buone ragioni che prevedono che la prossima crisi sarà più devastante della precedente del 2008. Probabilmente sarà simile alla precedente, con una nuova crisi che inizierà negli Stati Uniti e durerà più a lungo, con un impatto molto più catastrofico sulle economie occidentali. Le nazioni di tutto il mondo, specialmente in Europa, hanno perso la fiducia nella capacità degli Stati Uniti di guidare questioni finanziarie, commerciali, diplomatiche e di guerra internazionale. Queste nazioni stanno silenziosamente smantellando l'alleanza settennale con gli Stati Uniti, costruendo invece un sistema alternativo di commercio bilaterale. Inoltre il dollaro USA ha perso terreno per alcuni anni rispetto ad altre valute. L'evoluzione dei diritti bilaterali, tecnologici, commerciali e economici di proprietà intellettuale e conflitti politici e militari culminerà in un vero confronto in tutto il mondo. La crisi e i conflitti emergenti porteranno a una nuova guerra mondiale tra Stati Uniti, Cina, Russia e Corea del Nord. Infine emergerà un nuovo ordine mondiale, governato dagli Stati Uniti e dalla Cina. Sebbene sembri incredibile, questa previsione non è fatta ad alcun sensitivo veggente, ma è dai migliori analisti che credono che il 2020 sarà un anno veramente catastrofico per l'umanità in tutti gli aspetti. E sembra che la Russia abbia già iniziato a realizzare queste previsioni. Ma ne parliamo dopo aver lanciato la sigla. Sergei Shoigu, ministro della difesa russa, ha informato il presidente Vladimir Putin che una nuova arma ipersonica di portata intercontinentale è entrata in funzione venerdì, dopo anni di prove. Shoigu ha detto che la prima unità missilistica equipaggiata con veicolo scorrevole ipersonico avant-garde è entrato in servizio di combattimento. Sergei Karakayev, capo delle forze missilistiche strategiche ha rivelato che avant-garde è stato messo in servizio con unità nella regione di Orenburg, a sud degli Urali. Putin ha presentato l'avant-garde tra gli altri possibili sistemi di armi nel suo discorso sullo stato delle nazioni nel marzo del 2018 e ha osservato che la sua capacità di seguire brusche manovre nel suo obiettivo renderà inutile la difesa missilistica. Il leader russo descrisse il missile a capacità nucleare come un progresso tecnologico paragonabile al lancio sovietico del primo satellite nel 1957. Putin ha fatto notare anche che avant-garde è un progetto con nuovi materiali compositi per resistere a temperature fino a 2000 gradi a seguito di un volo attraverso l'atmosfera a velocità ipersonica. Inoltre, all'inizio di questa settimana, Putin ha sottolineato che la Russia è l'unico paese che ha armi personiche. Ha detto che è la prima volta nella storia la Russia ora guida il mondo nello sviluppo di una nuova classe di armi. I militari hanno affermato che avant-garde è in grado di volare 27 volte più veloce della velocità del suono e che l'esplosione di una testata nucleare portata da avant-garde è superiore a 2 megatoni. Ciò ha indotto gli Stati Uniti a preparare una nuova strategia di difesa per contrastare le armi personiche sviluppate dalla Russia e Cina, comprese la forza spaziale. Funzionari statunitensi hanno parlato di mettere uno strato di sensori nello spazio per rivelare più rapidamente i missili nemici, in particolare le armi personiche. Alla luce degli ultimi eventi mondiali, numerose profezie recenti e precedenti hanno predetto l'inizio della Terza Guerra Mondiale. Secondo le previsioni di Horacio Villegas, chiamato anche il Messaggero di Dio, le situazioni di conflitto generale da Donald Trump inizieranno una Terza Guerra ed è solo una questione di tempo. Più di 450 anni fa, la famosa occultista inglese Modar Sipton predisse l'inizio della Terza Guerra Mondiale in Medio Oriente e indicò i Stati Uniti come il principale potere di distruzione. Gli esperti nelle profezie di Nostradamus affermano che l'astrologo francese ha predetto l'arrivo dello Stato Islamico e lo ha indicato come la minaccia che avrebbe provocato la Terza Guerra Mondiale. Inoltre predisse che diverse città sarebbero state rase al suolo e che tutto sarebbe stato accompagnato da gravi catastrofi naturali. Anche Baba Vaga, noto anche come il Nostradamus dei Balcani, ha predetto altre cose come l'ascesa di Donald Trump al potere e predisse anche che il 45esimo presidente americano avrebbe abbattuto il paese con una Terza Guerra che avrebbe trovato le sue vere origini nelle terre arabe. Avvertì anche che il conflitto non sarebbe cessato fino al 2341. E ultimo, ma non meno importante, abbiamo la profezia di Papa Francesco. Il sommo pontefice ha avvertito che stiamo già attraversando la Terza Guerra Mondiale, anche se in parte. Inoltre ha lasciato intendere che le vere ragioni della guerra sono in effetti la scarsità dell'acqua. Che dire, siamo sempre saliti da notizie che non sono proprio piacevoli ogni nuovo anno, soprattutto se si parla di Terze Guerre Mondiali, che poi, per fortuna, non si realizzano. O forse siamo già in guerra senza che noi ce ne accorgiamo lottando ogni giorno noi stessi per la sopravvivenza. Speriamo soltanto che i preparativi della Russia non siano segnali che le profezie sulla Terza Guerra Mondiale si stiano adempiendo. auguriamoci sempre che il nuovo anno, il 2020, sia un anno di pace. Grazie per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.